Stampa estera del 26 febbraio 2024. Alla mostra dell'agricoltura, Emmanuel Macron scava un po' più a fondo nel baratro con i difensori ambientalisti. Il fiasco del dibattito annullato sabato scorso con le associazioni e i commenti del Presidente, che ancora una volta ha attaccato alle norme, hanno alimentato la preoccupazione degli ambientalisti. Per Gabriele Attar la mostra dell'agricoltura non è né un circo mediatico, né un circo politico, né un circo attivista. La mostra dell'agricoltura quindi è diventata un campo di battaglia per le elezioni europee. Le battaglie di tre uomini bianchi contro le diversità nell'impresa, nell'università e negli Stati Uniti. Lunedì, a Parigi, la Francia riunisce il sostegno europeo all'Ucraina. L'esercito israeliano presenta un piano per evacuare i civili dalle zone di combattimento a Gaza. In una notte ho perso tutto, la mia casa, la mia terra e la mia libertà. polemica alla Berlinale dopo che diversi artisti accusano Israele di avere commesso un genocidio a Gaza. Grazie.